Buongiorno dai due, buon venerdì 17 a tutti, è la terza volta che registro questo podcast perché ho avuto dei problemi tecnici, quindi il venerdì 17 ha colpito ancora, non ci credete? Eppure non sono coincidenze. Comunque, prima di parlare del tema principale di oggi che è TypeScript, vi voglio raccontare una notizia curiosa che riguarda i raggi cosmici e i computer. Sapete che i raggi cosmici possono causare degli errori nei circuiti elettronici? Vengono chiamati soft errors e si verificano quando dei neutroni emessi dai raggi cosmici collidono con un semiconduttore e cambiano i dati memorizzati. Questo fenomeno dipende dall'energia dei neutroni e dalla composizione dei semiconduttori. Ebbene, una ricerca condotta in Giappone da Entity, Nagoya University e Hokkaido University ha misurato per la prima volta la dipendenza dei soft errors dall'energia dei neutroni in un ampio intervallo e i risultati mostrano che questi errori sono più probabili con i neutroni a bassa energia, soprattutto quelli chiamati neutroni termici. Questo significa che i materiali usati per costruire e raffreddare i computer potrebbero influenzare il tasso di soft errors. Ad esempio, l'acqua usata per il raffreddamento potrebbe aumentare il numero di neutroni termici. Questa scoperta potrebbe avere delle implicazioni importanti per la sicurezza e l'affidabilità dei dispositivi elettronici in vari ambienti, come le alte quote o lo spazio, dove questo genere di errori ovviamente sono più frequenti. Tra l'altro, uno dei più famosi casi di errori probabilmente dovuti ai neutroni cosmici è quello del volo della Qantas da Singapore a Perth nel 2003, che ha subito una discesa improvvisa di 690 piedi in 23 secondi a causa di un errore nel software di unità di riferimento inerziale, che fornisce informazioni sulla posizione e la velocità dell'aereo. Questo errore è stato attribuito a un singolo evento causato proprio da un neutrone che ha colpito il chip dell'IRU e ha alterato il valore del dato relativo all'angolo di attacco. Questo ha portato il pilota automatico a interpretare erroneamente la situazione come uno stallo imminente e a correggere la traiettoria con una manovra brusca. Questo incidente ha provocato lesioni a 119 passeggeri e a certi membri dell'equipaggio. Pensate comunque che il tasso di questo errore in media è estremamente basso, si misura in errore per miliardi di ore di funzionamento, quindi probabilmente non lo incontrerete mai nel vostro PC da gaming, però se lo raffreddate a liquido potete avere qualche possibilità in più. E ora benvenuti a una nuova puntata del podcast di news informatiche. Oggi parleremo di TypeScript 5.0, la nuova versione di questa estensione di JavaScript fortemente tipizzata. TypeScript 5 è stato rilasciato ieri, 16 marzo, e porta molte novità e miglioramenti. Gli diamo un'occhiata veloce. Allora, prima di tutto parliamo dei decorator. I decorator sono una funzionalità che è in arrivo anche in ECMAScript, sono stati proposti già 4 anni fa, che ci permette di personalizzare le classi e i loro membri in modo riutilizzabile. Per esempio, possiamo scrivere una funzione che aggiunge dei log prima e dopo l'esecuzione di un metodo in una classe. In TypeScript 5 possiamo usare la sintassi at per applicare i decorator alle classi, ai metodi, ai campi, ed è una cosa che chi programma in Angular già conosce abbastanza bene. Questa sintassi riflette le discussioni e il consenso all'interno di TC39, che è il comitato che si occupa degli standard per ECMAScript e JavaScript. Poi ci sono i parametri const nei types, che sono un modo per controllare l'inferenza dei tipi generici. In pratica, possiamo usare la keyword const davanti a un parametro di un type per indicare che vogliamo che il type sia inferito come letterale e può essere utile per evitare che TypeScript inferisca un tipo più ampio di quello desiderato. Questo si riferisce soprattutto a chi sviluppa librerie. Poi una cosa interessante è sugli enum, quindi gli enumeratori. Noi per esempio possiamo definire un enum che rappresenta i giorni della settimana e poi usare l'operatore union, quindi la pipe, per creare una variabile che può contenere uno o più giorni. E questo può essere utile per quelle situazioni in cui abbiamo bisogno di esprimere delle scelte multiple tra valori discreti. Bene, da questa versione di TypeScript tutti gli enum sono degli union enum e quindi abbiamo un tipo unico per ogni membro calcolato e i membri degli enum possono essere referenziati come tipi. Oltre a queste novità sul codice, TypeScript 5 offre anche altre funzionalità interessanti come il supporto per più file di configurazione nella proprietà Extents, poi l'opzione meno meno modo Resolution Bundler per facilitare le integrazioni con i bundler come Webpack o Rollup, poi c'è il nuovo Export Type asterisco, le nuove annotazioni JS Dock, Add Satisfice e Add Overload, e poi molti altri miglioramenti alle performance, alla memoria e alla dimensione del pacchetto. Quindi TypeScript 5 è una release ricca di contenuti, ma non è distruttiva. Tutto quello che sapete su TypeScript è ancora valido e la maggior parte degli utenti non dovrebbe avere problemi nell'aggiornamento dalla versione precedente. Se volete approfondire vi linko il post ufficiale sul blog degli sviluppatori di Microsoft oppure un articolo molto interessante su Medium che riassume le principali caratteristiche di questo aggiornamento con degli esempi pratici. E questo è tutto per oggi, spero che vi sia piaciuta questa puntata del podcastissimo. E sono contento di aver conosciuto alcuni di voi che mi seguono qui o su Continuous Delivery. Eravamo ieri al Web Day a Milano, è stato molto figo. Anzi, vi invito, chiunque c'era ieri, a scrivere un commento qui su YouTube o Spotify. Sapete che si possono lasciare commenti su Spotify? E ora lo sapete, ecco. Scrivete magari se fate qualcosa pure voi, dei contenuti come questo, o se scrivete un blog, o avete dei progetti open source. Ecco, quello che vi pare. Insomma, facciamo un po' di condivisione delle nostre cose. Io poi me le guardo e magari le rilancio in qualche modo, così è anche il bello di fare community, credo. Quindi, vi ringrazio per avermi ascoltato, vi do appuntamento alla prossima puntata con altre news frizzanti. Ciao!